da baco caracoles vediamo dove arriverà oggi il tempo il vento più che altro mi sto lasciando pedalare bene lì c'è un cavallo che sta correndo libero nella pampa argentina guardate qua guardate qui è dura è dura la patagonia ma che soddisfazioni difficoltà eh ragazzi ma una volta che poi si arriva a destinazione mamma mia tanta roba tanto il cavallo continua a correre probabilmente mi starà sentendo avrà avvertito che io sono qua qua c'è il cartello che avverte che possono passare degli animali una volta ogni tanto il vento a favore ce l'ho pure io guardate non si pedala si va mamma mia che bello ho incontrato sei macchine da quando sono partito da baco caracoles non ho idea di quanti chilometri che mancano non ho idea di nulla solo che voglio sbrigarmi per arrivare il prima possibile la destinazione perché il pomeriggio sarà tremendo e ventoso e già credo che il 30 a favore andrà a finire perché c'è una curva che va a destra ragazzi breve clip perché oggi sembra che il vento tardi ad arrivare allora io sto arrivando da questo lato ancora percorrere tutta questa strada non si vede la fine lo so ma è così più o meno da 50 km tutta questa linea tutta questa strada che va verso il pueblo da dove sto arrivando è tutta dritta tutta dritta un po in discesa mini discesa mini salite 50 km così purtroppo ci sono tante condizioni un po così per quanto riguarda l'asfalto non è un problema per la mia bicicletta ma per le altre anche ne si comunque il vento questo è il lato ovest che dovrebbe proprio arrivare così oggi c'è però sembra essersi un attimino tranquillizzato guardate tutte quelle staccionate so se riuscite a vedere tutti quei pezzi di legno li vedete che sono tutti a terra in questo modo quasi tutti quasi tutti è perché il vento praticamente le butta le butta giù talmente tante forte questa comunque è un paesaggio tipico della ruta 40